Ciao a tutti, mi chiamo Nina e provengo da Ucraina. Oggi abbiamo preparato una zuppa che ucraina si chiama Cervoni Borschi. Abbiamo messo tanti ingredienti e anche che appartengono solo Ucraina, si usano tanto in Ucraina che come Agnice. Mi piace cucinare tanto, cucino con amore, anche oggi preparato con tutto il cuore, perché secondo me la cucina, che è una cosa che si condivide facilmente con tutti i nazioni, sapori, gusti, modi di fare e tutto altro, è una cosa che unisce il mondo. Grazie a tutti.